Presentazione di Gesù al Tempio e Festa della Candelora Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen O Maria, Tu oggi sei salita umilmente al Tempio, portando il Tuo Divin Figlio e lo hai offerto al Padre per la salvezza di tutti gli uomini. Oggi lo Spirito Santo ha rivelato al mondo che Cristo è la gloria di Israele e la luce delle genti. Ti preghiamo, Vergine Santa, presenta anche noi che pure siamo Tuoi figli al Signore e fa che, rinnovati nello Spirito, possiamo camminare nella luce di Cristo finché lo incontreremo glorioso nella vita eterna. Grazie